Udine e il Friuli non sono luoghi di morte, sono luoghi di vita perché l'esperienza di tante persone, di tante famiglie, sono esperienze di vita. Nel palazzo della provincia di Udine si ricorda la morte di Eluana Inglaro, cinque anni dopo in prima fila i personaggi che hanno lottato per la sua vita. L'appello è perché non ci sia alcuna legge che decida sui valori ultimi delle persone, quello che invece vorrebbe Peppino Inglaro, padre di Eluana. Qualunque legge in questo campo non possa prescindere da tre no, il no alla eutanasia, il no all'accanimento terapeutico, ma certamente anche il no all'abbandono terapeutico. I tre no che arrivano da Udine sono gli stessi che arrivano anche dalle associazioni presenti in sala, che hanno al proprio interno casi come quello di Eluana ma hanno dato risposte diverse, cioè famiglie che assistono e aiutano. Non dimenticare appunto che queste di cui stiamo parlando sono persone umane, non dimenticare che sono dei gravi disabili che hanno bisogno di aiuto, non dimenticare che hanno una loro dignità intrinseca che nessuno può cancellare o diminuire e lavorare perché questa dignità venga rispettata. Grazie. 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 Grazie.